Ciao a tutti e benvenuti. Questa è la lettura per il segno dell'acquario. È una lettura senza tempo. Significa che quando vedrai questo video probabilmente sarà il momento giusto per te per ricevere i messaggi che contiene. Se senti il bisogno di ricevere un altro messaggio o di integrare il messaggio che è emerso, ti invito ad andare a vedere il tuo ascendente o un segno predominante nel tuo tema natale. Come vedi oggi registro da un posto diverso, quindi spero che l'immagine possa arrivare altrettanto chiara. Io mi chiamo Lisa, mi occupo di crescita personale, crescita spirituale. Significa che queste letture non sono divinatorie, non vado a predire il futuro, ma servono per darti uno strumento in più per andare a risolvere un problema magari che stai vivendo in questo momento della tua vita o sostenerti in quello che stai attraversando. Se ti piace questa lettura ti invito a iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, in questo modo sarai aggiornato tutte le volte che esce un contenuto nuovo. Partiamo con l'oracolo dei Wicca. Ho già estratto una carta per velocità e per voi è uscito il numero 19, il famiglio. Cosa sta dicendo questa carta? Il tuo legame con la natura è molto forte ora. Presta attenzione ai tuoi compagni animali, sia nel mondo fisico che in quello spirituale. Un animale totemico può manifestarsi a te, facendoti esprimere quelle qualità che avevi sempre posseduto ma mai espresso. Questo è un messaggio molto importante perché ognuno di noi ha degli animali guida che possono essere appunto nel mondo fisico quindi intorno a noi ma anche dentro di noi. Se c'è un animale che ti parla, che ti chiama interiormente, prova a chiederti quali sono le caratteristiche di questo animale che ti piacciono perché quelle caratteristiche ce le hai anche tu e semplicemente si tratta di trovare un modo per esprimerle. Quindi ad esempio la pazienza, la scaltrezza, la fluidità, la leggerezza, dipende dall'animale che ti viene in mente. C'è un'affermazione per lavorare con l'energia di questa carta che in questo momento è l'energia che ti sta circondando. Io abbraccio la mia natura animale. Io abbraccio la mia natura animale. Quindi l'invito è di ripetere questa frase a voce alta tutti i giorni, più volte al giorno, proprio per portare questa energia a te e per permetterti di lavorare con la tua parte animale, intesa come appunto immagine archetipale e energia. Qual è la sfida? La sfida è quale parte selvaggia di me aspetta di essere liberata? Quindi quale vostre parti state in qualche modo trattenendo, in qualche modo schiacciando? Noi purtroppo crescendo veniamo portati un po' dalla società, dall'insegnamento dei nostri genitori a non esprimere tutte le nostre parti, soprattutto quelle più istintive e quelle istintuali. Il problema è che andandole a nascondere anche a noi stessi, togliamo uno strumento importantissimo, il nostro istinto, che è un po' diverso dall'intuito, ma è comunque qualcosa di non visibile che ci può guidare quando serve. Perciò entrare in contatto con la nostra parte più animale barra istintuale è un grande aiuto per prendere decisioni, percepire se una situazione ci fa bene o meno e quindi avere una direzione in più nella nostra vita, fidarci in più, fidarci di più di noi stessi. Wow, stanno uscendo le carte molto interessante. A livello di tarocchi lavoriamo con la ruota della fortuna, la morte e il tre di coppe. Molto bello, io adoro questa energia. La ruota della fortuna, quello che invita a fare questa carta, il lavoro che vi invita a fare, è proprio di riflettere sul fatto di essere sul proprio percorso o meno. Quindi sto facendo quello che sento essere il mio percorso oppure, come dicevo prima, sto seguendo quello che gli altri si aspettano da me o io penso che gli altri si aspettano da me. La fortuna arriva quando noi stiamo camminando sulla strada che abbiamo scelto prima di arrivare su questa terra, quando siamo allineati col nostro percorso. Nel momento in cui noi siamo veri, nel senso che stiamo seguendo la nostra parte più vera interiormente, è il momento in cui l'universo fa cadere le cose per noi. Le sincronicità, le casualità, che fortuna. Non è fortuna, è semplicemente che state facendo quello che siete chiamati a fare, state smettendo di fare resistenza, resistenza a quello che è effettivamente il vostro compito sulla terra. Avete trovato il vostro equilibrio, così che si vede un pochettino meglio questa carta. E per fare questo è fondamentale abbracciare l'energia della morte. Cosa intendo con questo? Intendo tagliare i rami vecchi, intendo fare una buona osservazione di sé e capire quali delle vostre parti non sono più utili, quali parti di voi cosa fate che vi tengono lontani dal vostro vero essere, dal vostro vero percorso. E tagliando quei rami, quindi smettendo di essere chi non siete, diventate molto più creativi. Questa carta è bellissima perché la morte è gravida. Quindi portate alla luce quello che siete veramente voi stessi. Permettete a voi stessi di rinascere, di rinascere più veri, più allineati con la vostra esistenza, con il vostro essere, con la vostra energia, con quello che effettivamente siete venuti qua sulla terra, il vostro compito ecco qui sulla terra. E con il 3 di coppe, portiamo un po' di leggerezza in questo messaggio così denso di significati. L'invito è di farlo anche in allegria. Quindi circondatevi di persone che riempiano la vostra coppa. Dico spesso questo quando vedo questa carta. Prendete l'energia più infantile che avete dentro di voi, il vostro bambino interiore, la vostra bambina interiore. Permettete a questa parte di collaborare. Il nostro bambino interiore è la parte più vera, è la parte che abbiamo cominciato a nascondere e nel momento in cui siamo cresciuti abbiamo cominciato a subire i condizionamenti. Ma è quella la parte più creativa, è quella la parte più vicina alla nostra essenza. Quindi riportare in campo questa parte, permetterci di tornare a divertirci, a camminare mano in mano con il nostro bambino interiore, ci permette di tornare a noi, di tornare ad essere veramente chi siamo. Fatto, circondato da persone allegre, leggere, che ci sostengono e che noi sosteniamo a nostra volta, ci permette di avere più energia per andare a fare proprio quello che le carte ci stanno invitando a fare. Togliere il superfluo, togliere quello che non ci è più utile. Magari ci è stato utile costruire la nostra maschera, costruire le nostre difese per arrivare fin dove siamo arrivati oggi. Ma oggi l'invito per te è di tornare a una parte più vera, a una parte più istintiva, come vi ha detto l'oracolo, e a una parte più genuina che è anche quella del bambino. Spero che questa lettura possa essere utile per molti di voi. Se vi è piaciuto vi invito a mettere un like e noi ci vediamo alla prossima occasione quando ci sarà un'altra lettura. A presto!